Isola 2018 Anticipazioni Questa sera 20.03 Nuova grandissima puntata dellIsola dei famosi sempre su Canale 5. Questa sera sempre su Canale 5 a partire dalle 21.30 ci aspetta una nuova grandissima puntata del reality Cancelletto Isola dei famosi che continua a tenere banco in tema di gossip. Tip. I fan sono ansiosi di vedere cosa succederà visto lo scalpore causato dallultima diretta con la grandissima discussione, non molto gradita da alcuni fan, tra Alessia Marcuzzi e lex naufraga Eva Edgar. Molto probabilmente, dopo le continue digerie e i continui gossip in tv dovuti anche a striscia la notizia, Cancelletto Alessia Marcuzzi avrà sicuramente qualcosa da dire e non farà assolutamente finta di nulla. Valeria Marini sbarca in Honduras. In attesa di sapere cosa succederà in studio la grande novità arriva direttamente dalle spiagge dellHonduras dove soggiornano i nostri naufraghi e dove farà il suo sbarco Valeria Marini che in passato ha già partecipato ad unedizione dellIsola dei famosi. Grande attesa per il suo sbarco che sarà sicuramente una sorpresa per tutti e nel frattempo, a commentare la sua nuova avventura, ci ha pensato un altro ex naufrago, Rocco Siffredi, lIsola è unesperienza grandiosa che tutti, famosi o non, dovrebbero fare almeno una volta nella vita. È bello perché ti ritrovi a contatto solo ed esclusivamente con la natura, lontano da ogni forma di stress. Lex attore porno ha poi dichiarato che correrebbe per fare lIsola, la farei anche gratis. È unesperienza semplicemente unica. Nuova eliminazione con Marco Ferri in crisi. Nonostante lo sbarco di cancelletto Valeria Marini sulle spiagge dellHonduras, questa sera assisteremo nuovamente ad uneliminazione da parte del televoto del pubblico a casa. In questi giorni la persona più imbilico sembra essere Marco Ferri che, dopo settimane sulle spiagge deserte dellHonduras, sembra essere crollato emotivamente tanto da sfociare in un grande pianto. Il giovane sta attraversando un momento davvero duro che in un contesto del genere può assolutamente esserci ma grazie allaiuto e al sostegno dei suoi amici naufraghi sembra aver superato. Colpi di scena e tanta attesa. Lattesa per questa nuovissima puntata dellIsola dei famosi sale sempre di più e per sapere cosa succederà in studio e sulle spiagge dellHonduras non ci resta che aspettare questa sera le 21.30 con Alessia Marcuzzi e i due opinionisti di fiducia, Daniele Bossari e Mara Verniei. I presupposti per una grande puntata ci sono e la redazione ha annunciato nuovi colpi di scena. Che dire, attendiamo e buona isola e tutti.